e che devo fare? togli i fesi ECCOLO! SEEEEE! 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 Merdaioli Finalmente Johnny ha preso un persico sole E io effettivamente con questa canna io ci pescavo non lo vedevo un persico sole dal 1921 Volevi un pesce è arrivato mi fai ombra per fatti ombra ci vuole ma è grosso eh è un bellissimo persico sole dai un bacino detto anche da noi si che dicono gobbi o orologi effettivamente sono le tre te gobbo lo sai anche io gobbo lo sono vantatene anche e andatelo